ah, adesso inizia capito oh, siamo in quattro? e io attesimo gli unici due rossi che divertivano cielo, vieni, andiamo secondo te si fa proprio esperienza con i pigmen? no, qui qua, qua dove sto andando io ah, si tiene spremuto, ok no no, no, solo quando è pieno ah, mi stanno già colpendo oh, ti vengono ad aiutare no, ok no, non l'arco non mi hanno dato l'arco perchè non hai l'arco? non l'arco non mi hanno dato strano e quando costa la spada? eh? quando costa la spada? 30 mi sembra e se sto cosa facesse un altro punto esperienza e io andare a comprarla uno dai però non fa niente non mi sembra che costa 25 ah, mi sembrava più 30 no, no, mi sa 25 vieni oh, finalmente schiacciare sempre oh, ah no, è un tizio che è penetrato ok costa 20 neanche 25 ah, ok bene, così mi compro anche l'armatura mi compro ah, no, costa 15 quello andiamo a dei pigmen no, io devo fare altri livelli che mi serve l'arma ok, no, ci sono tanti tizi e poi non si può coprire altro le emozioni ok, basta le emozioni però sono buone quella di forza è buona stiamo buscando eh 13 minuti costa eh, cioè ok andiamo a uccidere i pigmen sta venendo un blu ok uccidiamo i pigmen no, scappiamo scappo scappo ti faccio dopo mamma fra quattro minuti fra cinque minuti oh, aiuto le pepite che servono servono a qualcosa le pepite eh, sì è per fare i punti eh, come? eh, devi andare alla crafting ti crafti il... il lingotto se ne hai 9 oh, oh, cos'è? aiuto mamma mia aiuto, aiuto 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 che sta succedendo? via, via ok vieni, aspetta vieni in quella che creo io adesso con la solita password eh, ok aspetta un attimo che vi vado allo spawn ti ricordi? sì, sì ok, procediamo solo io sono morto in questo casino io no però sono vici dei blu e sono tantissimi sì eppure noi dovremmo essere quattro e loro tre o qualcosa del genere non sai quanta esperienza c'è qua sì, ti sto vedendo ok perchè io credo che fosse altra musica o, abbiamo perso ok subito che dici? se no? ok quali due sempre? si ok corri al 2 Sta nevicando Si corre Stiamo anche già perdendo Ah beh 6 a 0 Cioè mica è una perdita Costava? 20? Ok La spada si No Ma dai Già perso Chi è che Devo andare Aiuto Di nuovo Va A me non mi è arrivato niente Ah si ecco Close Ok Ah ma questi sono rossi Io so blu Io credevo Niente Io sono andato da loro Con tutta tranquillità Così Tanto mo prendiamo i pigmi Ma che devi morire male Sono nella metà parte dei rossi E sto per errare qualcuno Gianci pronto Gianci pronto Sto per morire per colpa dei pigmi Oro Che me faccio? Tipo lo clicco Oh Oh Eh Che me faccio dell'oro? Come faccio a farlo diventare qualcosa? La butto? No 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 Devi fare testo destro In mezzo ai Pigmen No In mezzo ai Cosi dove ci sono le crafting table Ok Ah Un po' strano la tecnica di questo gioco La logica Oh adesso i rossi sono a due No No Eh E' scioppo anche la velocità E adesso vado a uccidere ce l'ho fisico noia mi mimetizzerò nell'ambiente oh è vero ma voi siete blu no siete rossi oddio credevo fossi tu invece non sei tu non sei tu non sei tu e arrivo a soccorrelo questo tizio che non sono io oh ho un lingotto davvero non ha molto senso bisogna avere fortuna praticamente per questo gioco qui e basta oddio quanti livelli non vedo tante palle che mi stanno girando in testa mi stanno girando troppe palle ok cioè che è brutto da dire sì però un orsetto è gioinato un orsetto oddio ho scioppato un diamante e che serve non lo so ho sbagliato volevo scioppare la spada spavento c'era un tizio dietro di me che sembrava oscuro invece non lo è come sembrava? malvagio vai si corre si corre xd xd questo lo sai che franci è un orsetto? morsetto eh sì è un orsetto poverino ci sono le pozioni di livello che costano costano carne e marcia ed ecco gelofisis io ho della carne e marcia ecco gianji che si appresta a uccidere i pigman e prende armatura gratuita ah no ah un tizio ha buttato della carne e marcia e io l'ho subito raccolta no ah ma ti da direttamente un livello la pozione ah strano lì ha ritirata noi abbiamo bloccato uno qua che tipo xd siamo a sette noi oh ah oh è arrivato un coso un orso un attacco dei millenani l'attacco dei millenani vince sempre via siamo a otto e voi a sei aiuto 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 tanti tizi via ma ci sei danji sta lì sta lì al momento non posso leggere il messaggio quindi ok sei andato aiuto non ti sento oppure tu mi senti non ti sento più non ti sento non è il problema dell'altra volta no ho sentito qualcosa mi sa che tipo non ti funziona più il microfono ok sto sentendo rumori strani e poco rassicuranti e abbiamo vinto grazie a me c'è oh ok ti sento ok abbiamo vinto vittoria sì adesso mi senti sì sì ciao e al prossimo video